Tutto bene? Fa malissimo, mi puoi fare l'anestesia per favore? Scusa, non posso fartela perché non sono abilitata, solo gli anestesisti possono farla. Ma che cavolate dici? Dai, dammi qui l'anestesia! Ok, ok. Vedi che ce la vedi. Ma cosa stai facendo, scusa? Mi preparo. Per cosa? Eh, per l'anestesia!